Ci siamo o non ci siamo? Ci siamo o non ci siamo per questo nuovo stadio? Buon pranzo, capoccio rossonere, buon pranzo a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, ragazzi, in un clima di incertezza e sconforto che attanaglia tutti i tifosi rossoneri che vedono nomi attorno all'Inter, frattesi, Milinkovic-Savic, Lukaku-Kulibaly e la Juventus che contende all'Inter frattesi, riscatta Milik e sui giocatori il Milan. Come dice il mio amico Joe, il Milan guarda ciò che succede intorno, il panorama e si concentra su quella, poi parliamoci chiaro, che è la vera priorità da parte di Red de Verde e Jerry Cardinale, la costruzione del nuovo stadio. La costruzione del nuovo stadio per due motivi, ora, ammesso e non concesso che se Jerry Cardinale riuscirà in futuro a costruire questo stadio, dovremmo dirli grazie e basta, perché obiettivamente è vero che fa una cosa del suo tornaconto, ma ragazzi, lo stadio del Milan tentano di costruire nei tempi di Barbara Berlusconi, vi ricordate che aveva tentato quella bozzo di progetto a Sesto San Giovanni, poi abbandonato per eccessivi costi di bonifica e quindi Berlusconi che cercava un socio di minoranza all'inizio, diciamo che, allora, il progetto di Red de Verde è quello di portare avanti il nuovo stadio, portare avanti il nuovo stadio, c'è stato un incontro con una prima firma, non vincolante, ma che comunque sancisce quella che è una bozzo d'intesa per la costruzione del nuovo stadio a San Donato, perché San Donato? Per due ragioni, la prima ve l'ho detta che rispetto a Sesto San Giovanni non ha sostanzialmente i costi eccessivi di bonifica, si parlava di oltre 90 milioni di bonifica, la seconda ragione è perché, diciamo, coloro che studiano la costruzione del nuovo impianto vedono uno stadio a San Donato alle porte di Milano lo stesso identico format dello stadio del Bayern Monaco, a Monaco di Baviera, all'inizio, all'imbocco quasi dello svincolo per entrare dentro Milano, un'area ottimamente servita, quella di San Donato, arriva la metro, arriva la ferrovia, ovviamente la stazione ferroviaria, scusate, quindi c'è il treno, e obiettivamente è proprio una zona che sta a pochi minuti da quella che è la fermata del Duomo, 20-22 minuti, quindi da questo punto di vista è una zona veramente, veramente strategica. Terzo motivo, lo aggiungo io, non hai la rottura dei coglioni del sindaco Sala e di tutto il comune di Milano che obiettivamente non merita per come si è comportato un investimento, c'è stato pochi giorni fa uno sfogo finalmente da parte del sindaco Sala che dopo due anni si rende conto che passerà per il sindaco che ha fatto scappare 6.000 e Inter da Milano, lasciando San Siro vuoto sul gruppone perché poi tutte le spese di gestione sicuramente andrebbero tutte interamente sulle spalle del comune. Ora, questo stadio obiettivamente, ragazzi, si parla di uno stadio di 60.000 post e già inizialmente io inizio a storcere il taso perché, perché in quest'area è già la cosa buona che è già stata adibita per costruzione ad uso sportivo, inizialmente doveva sorgere una cittadela sportiva, cosa che non è mai decollata e quindi, diciamo, l'azienda privata che detiene il territorio ben vede lo stadio di Milano, ci saranno ovviamente, preparatevi, le solite rotture di coglioni, le ambientalistiche si metteranno in mezzo a dire che non è possibile, di qua di là, in soldoni, quello che a noi interessa i tifosi del Milano è che non c'è di mezzo il comune di Milano perché lì veramente si sfocia nel ridicolo, c'è di mezzo l'area privata, c'è di mezzo comunque il comune di San Donato, che è un paesino, però obiettivamente, ragazzi, tutto quello che ci sarà per la costruzione di questo nuovo stadio porta solo benefici per la miriade di posti di lavoro che verrebbero costruiti per la cittadela sportiva, si parla non solo dello stadio ma anche di alcuni importanti negozi commerciali, quindi parliamoci chiaro, il nuovo stadio e il Milan serve, serve soprattutto, ragazzi, per poi, perché mi sono anche rotto i coglioni di dovermi contendere i giocatori con l'Itz, di vedermi sfumare gli obiettivi perché se lo prende, la stondila di turno perché noi non possiamo dare quegli ingaggi, ragazzi, parliamoci chiaro, l'obiettivo di Geri Cardinale è chiaro, Geri Cardinale appena ci sarà la nuova pietra, alla prima pietra, appena quindi il progetto avrà dato un via, certo che non ci saranno intoppi, eccetera, eccetera, verrà superato, verranno superati tutti quelli che sono gli ostacoli fino a questo momento, verrà posta la prima pietra, Geri Cardinale si leverà dei coglioni vendendo il Milan e facendo una enorme plus valenza. La cosa importante, ragazzi, è che obiettivamente quello che mi auguro io in primis, ma penso che sia quello che si augurano tutti i tifosi che hanno il Milan veramente nel cuore, è che a me non interessa chi sarà il prossimo presidente, sia italiano, sia indonesiano, sia cinese, sia russo, sia americano, sia sceicco. A me interessa che sia un presidente, che abbia una faccia, che come ai tempi anche Abramovic, no? Voglia in qualche modo risultare, portare il Milan di nuovo sul tetto del mondo. Non mi interessa se voglio utilizzare il Milan per pubblicità, l'importante è che ci conduca a vittorie, ragazzi. L'importante è che ci conduca di nuovo sul tetto del mondo. Ieri ho visto, grazie presidente allo speciale su Italia 1, ma veramente, ragazzi, da parte dei tifosi rosso-neri, c'è solo da dire grazie a quello che ha fatto Silvio Berlusconi. Ecco, quello che mi auguro sia un presidente che in qualche modo ci metta la faccia come faceva lui, che sia una figura riconoscibile, che si possa in qualche modo, che possa spendersi per chiamare i giocatori, per farli venire, per illustrare il progetto, che sia anche una faccia con cui prendersela quando le cose vanno male, ragazzi. Parliamoci chiaro. È perché io, come magari alcuni di voi siamo tifosi malati, ma se voi andate in giro e chiedete al tifoso milanista medio che faccia a Cardinale, non te lo sa dire. Non sa neanche se è uno, possibilmente, di colore, se è giallo, se è bianco. Veramente, i tifosi rosso-neri non sanno che faccia abbia a Gerry Cardinale. Questa è una spersonalizzazione incredibile. Perché ho portato questo video sul nuovo stadio, ragazzi? Perché il video sul nuovo stadio si collega al budget. Secondo me, con questa firma vincolante, con il progetto che ora entrambe le squadre dovranno presentare entro, si parla di un mese, entro fine luglio, no? Ci sarà questo nuovo progetto, capire, insomma, dove collocare lo stadio, un progetto che dovrà essere, in qualche modo, approvato dal comune di San Donato, però per il lavoro che porterà, ragazzi, io non vedo grossi problemi da questo punto di vista, anche perché dovessero esserci anche problemi per San Donato e un'area privata, ragazzi. Andiamo a costruire questo stadio proprio sul cucuzzolo del Monte Bianco perché evidentemente forse, forse, riscontremo meno problemi. Detto questo, è importante perché obiettivamente questi progetti, questi architetti, questi capi progetti che vengono pagati da Red The Bird costano milioni e milioni e milioni, quindi io non vorrei che poi il budget di mercato possa essere intaccato da queste persone. Anche perché, caro Jerry Cardinale, ricordati che i giocatori su cui tu non investi oggi potrebbero ritornarti, rimbalzare a terra e ritornarti nel culo domani perché se tu c'è un'occasione come quella di Milinkovic-Savic e non la sfrutti, non la sfrutti per andare poi sostanzialmente a prendere chi? a prendere il signor nessuno. Milinkovic-Savic, sì, è un investimento per un giocatore che ha 28 anni, ma Milinkovic-Savic ti fa raggiungere i risultati sportivi, ti fa sicuramente entrare in Champions, ti fa possibilmente arrivare oltre gli ottavi e quindi avere anche, come è successo quest'anno, delle entrate inaspettate, no? Quindi, sveglia, sveglia perché è vero che siamo inizio giugno, ragazzi, è vero anche che c'è una voce che filtra la società che sicuramente li do credito, secondo cui Moncata dice non credete a tutti i nomi che circolano perché spesso vengono messi indietro dei procuratori. L'ultimo nome, Tillemans, si è trattata solo di un chiamato, un pur parlay da parte di Moncata, come vi dicevo io nei video passati dove Moncata ha chiamato i procuratori di Tillemans e ha detto il ragazzo è ancora libero? No, siamo già in dirittura con l'Aston Villa, chiusa chiamata. Quindi poi giustamente ci sono voci che vogliono far passare questo corso, magari già a gettare ombre per aver cacciato Maldini quindi escono queste voci del Milan beffato perché fa sempre comodo scriverlo ragazzi. Va bene quando è vero però non crediamo a tutte le voci che circolano anche perché ragazzi mie, capocce mie, ci sarà veramente un'estate rovente dal punto di vista del mercato e dobbiamo investire per rinforzare la squadra. A me non frega nulla alzare il tasso tecnico della squadra sia per quanto riguarda i titolari sia per quanto riguarda le riserve, fonti della società e dicono sei acquisti terzino destro che possibilmente verrà preso come testa a fine mercato l'anno scorso in prestito due centrocampisti un esterno destro un trequartista e una punta questi saranno diciamo i nomi da comprare poi ci sarà ovviamente uscirà Bolo 2 Re entrerà il vice Teo uscirà Re Bici Origi e Origi ed entrerà il vice Leao queste cose che si fanno sono cose che si fanno man mano sostanzialmente con un'uscita e un'entrata però escludendo le entrate quello che arriveranno sono proprio sei acquisti detto questo ragazzi si spera che possano esserci veramente questi sei acquisti vi ringrazio per essere stati qui con me like al video commentate condividetelo ragazzi raggiungiamo i 1000 iscritti nel miglior tempo possibile iscrivetevi anche nel canale di Dovebetti o Sipiosef oggi l'angolo rosso nero vi informerò sulla community quale sarà sostanzialmente il canale che lo trasmetterà bella raga buon brazo a tutti grazie a tutti